8.37, ben trovati telespettatori del VG21 mattina ed ora la rubrica addio debiti riparti pulito. Anzitutto ben trovato al presidente di legge3.it il dottor Gian Mario Bertollo. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Il periodo Covid sappiamo quante difficoltà ha portato, ma non solo. Molte famiglie e anche molti titolari di imprese non si sono semplicemente indebitati, ma addirittura hanno contratto più debiti, a tal punto da parlare di sovraindebitamento. E allora si possono configurare, dottore, degli scenari purtroppo lesivi per la vita stessa del soggetto delle famiglie. E chi si sovraindebita può vedere la propria casa o il proprio bene immobile messo all'asta. Ma questo ovviamente non evita poi addirittura i debiti. Come si può evitare? L'unico modo per evitare il pimpamento della casa sarebbe facile, sarebbe pagare i debiti. Purtroppo in molti casi chi si indebita o non fa i conti con il futuro e quello che può succedere in futuro, oppure subisce degli inconvenienti che nella vita ci possono essere e non riesce più a far fronte ai propri impegni. Questo è lo stato di sovraindebitamento, cioè non riuscire più a far fronte ai propri impegni in maniera costante. I creditori usano tutte le armi che hanno a disposizione il diritto per far valere il proprio diritto di ritornare a casa dei propri soldi. E quindi l'ultimo passaggio è proprio il pignoramento, pignoramento che può essere mobiliare o immobiliare. Il pignoramento immobiliare, cioè la casa all'asta, è una tragedia per noi italiani, che siamo cresciuti con la mentalità di bisogna avere una casa propria. Questo porta molte volte a prendere decisioni molto sbagliate nella difesa strenua della casa, oppure addirittura il classico consiglio che molti professionisti danno, aspettiamo che vada all'asta e poi ce la ricompriamo. Qui si configura un altro problema. Quasi mai la vendita all'asta della casa va a coprire i debiti che il proprietario di casa ha e quindi doppia beffa, si perde la casa e si tengono anche tutti i debiti sulla schiena per il resto della vita. Dottore, quindi ci si può difendere dai pignoramenti per dare un'immagine anche positiva a chi ci sta ascoltando? Ci si può difendere sapendo che esistono degli strumenti come la legge 3 del 2012 che è stata riformata proprio in questi giorni dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che permette alle persone di proporre un piano di rientro, un accordo con i creditori in modo, se ce n'è la possibilità e se il piano è sostenibile, di evitare i pignoramenti o cancellarli nel caso in cui ce ne fossero. Quindi si può usare questo strumento quando ce ne sono le condizioni per restare proprietari dei propri beni. Dottore, lei sempre con la sua rubrica dà immagino in campagna a chi ci ascolta una speranza perché moltissimi anche in maniera anonima hanno contratto debiti, si sono sovraindebitati e la condizione psicologica, umana è quella che poi prevale in questi momenti su quella economica e allora dare un'informazione del genere significa poter accendere una luce di speranza nella condizione difficile in questo momento per tanti. Grazie a Legge3.it, affidatevi a professionisti come quelli di Legge3.it che possono risollevare una questione veramente difficile. A presto al dottor Gian Mario Bertollo. Grazie a voi, grazie, arrivederci.